Con questo progetto intendiamo sviluppare una nuova interfaccia neurale, una Brain Computer Interface, che è una tecnologia che permette fondamentalmente di misurare in tempo reale segnali cerebrali, decodificarli, quindi interpretare il significato e capire a che cosa sono associati e traslarli nel controllo ad esempio di un dispositivo esterno oppure di un'interfaccia, un'interfaccia visiva. Questo ci permetterà fondamentalmente di potenziare le abilità linguistiche in individui con disturbi del linguaggio, specificatamente con individui con dislessia. Questo sistema permette quindi di andare fondamentalmente a rafforzare determinati circuiti neurali che sono deputati a processi visolinguistici coinvolti nel processo di lettura. Le persone che beneficeranno di questo progetto sono fondamentalmente individui con disturbi del linguaggio, quali ad esempio problemi nel processo di lettura, quali individui con dislessia, ma anche potenzialmente individui siani che possono potenziare le loro capacità, le loro abilità visolinguistiche e attentive. La metodologia consiste fondamentalmente nell'utilizzo appunto della Brain Computer Interface che permette ai soggetti di andare a comporre delle parole a partire da singole lettere. Questa composizione sfrutta la modulazione di un determinato segnale cerebrale, che è la cosiddetta P300, che è un segnale cerebrale coinvolto nei processi di lettura, nei processi attentivi. Quindi verranno in qualche modo allenati ripetutamente nella composizione di parole a partire da singole lettere, che è un processo che normalmente viene utilizzato in pazienti totalmente paralizzati. Quindi questa è una interfaccia che normalmente viene utilizzata per la comunicazione in pazienti, ad esempio affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Nel nostro progetto intendiamo in qualche modo estendere le potenzialità di tale interfaccia per andare a potenziare appunto le abilità visolinguistiche in soggetti con disturbi del linguaggio. Grazie a tutti.